Ilaria Rattini, doppiatrice a Rimini per i capi dal Vosso Corso, quali sono stati i tuoi inizi in questo lavoro? I miei inizi sono stati da bambina con mio padre, che era Franco Rattini, doppiatore, presentatore radio, attore di cabaret e doppiatore. Quindi hai inserito mia sorella Laura Rattini in questo campo quando eravamo molto picchi, però io avevo quattro anni. Tu sei la voce di Carino Titti da sempre, Titti e Lunituns e di Katie Holmes. C'è un tuo lavoro a cui sei particolarmente legata? Ma un mio lavoro a cui sono legata, sicuramente a Titti sono legata, che è il mio padre, perché comunque ho iniziato a fare una buona iniziazione. Ma, ciao! Ma un lavoro a cui sono legata è sicuramente il fenicangio, dove ho fatto la mia vita, perché mi ha divertito moltissimo. Quindi è stato un piacere doppiare, perché non ero così brava, è un gusto divertente che mi ha fatto ridere. E sono rimasta molto legata. Ti ringrazio e infine ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri? Ma sicuramente non ho particolari oggetti legati alla mia vita, ai film di Capitano America e dei gruppi, che ho partecipato e sono per film molto carini, uno per un verso, uno per un altro. Soprattutto nei gruppi mi sono divertita molto e vediamo che cosa ci aspetta e è un grande piacere. Ecco, ti ringrazio, Lari. Grazie. 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 Grazie.